Ciao a tutti e bentrovati, come state? Preparatevi perché oggi saremo in onda. Come? Proseguendo il nostro viaggio alla scoperta di tecniche di taglio e di styling più innovative. E lo faremo pensando a rientro in salone, a cosa proporre alle nostre clienti che dopo un periodo senza di noi avrà bisogno più che mai dei nostri consigli. E' proprio pensando a loro che vorrei ripercorrere con voi il nostro ultimo show, dove tra le tante proposte c'era Wavy, le onde, lo ricordate? Wavy vi permette di applicare una serie di tecniche per plasmare onde e ottenere look e stili esclusivi. Queste tecniche prevedono un codice preciso a seconda della tipologia di onda che si andrà a creare sui capelli delle nostre clienti. Ed è proprio questo codice che vi permette di avere un risultato uniforme indipendentemente da chi lo farà in salone, sia esso stesso il titolare o un collaboratore. Tutti, una volta imparato il codice, potranno ottenere risultati impeccabili. E allora guardiamo il video per vedere come fare il segreto. Impariamo la tecnica ed il suo codice. Buona visione. A dopo. Buona visione. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.